Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e benvenuti a Zur presenta il Bungie Weekly Update, la rubrica in due parti che ogni settimana vi presento. Nella prima parte parlo delle novità presenti nel Bungie Weekly Update, il link lo trovate in descrizione, mentre nella seconda parte vi mostro cosa vende Zur, il venditore di esotici, e provo a darvi consigli per gli acquisti. Se vi interessa esclusivamente la parte di Zur o dei saluti, vi invito a guardare il minuto corrispondente in descrizione per i Weekly Update, restate pure dove siete. Zur è disponibile ogni venerdì dalle 11 di mattina fino alle 11 di mattina della domenica. Ok, allora, questo Weekly Update in realtà ve lo ripropongo in chiave diversa, nel senso che si parla dell'arrivo di Zur e del Ride, che arriverà questa sera alle ore 19 italiane. Non richiederà nessuna missione di storia completata in precedenza, e secondo Mark Nosworthy di Bungie, il livello luce consigliato dovrebbe aggirarsi sui 290, come avevo pronosticato, se vi ricordate. Questo in poche parole, il discorso del Ride sarà fondamentale per le vostre scelte xuriane di questa settimana, ma prima di parlarvi di questo vorrei soffermarvi con voi ad analizzare il nuovo Zur che si presenterà d'ora in avanti ai vostri occhi. Cominciamo dalle esotiche, Zur venderà ogni settimana le armature esotiche, una per classe, ma ad intervalli, non so se regolari, deciderà se mettere in vendita un'arma specifica esotica oppure un engramma esotico. Significa che a sto giro non abbiamo l'arma esotica specifica, ma abbiamo un engramma esotico, in questo caso un elmo. Come vediamo, non serviranno più le particelle di luce per acquistare le engramme esotici, bensì le strane monete. Come si farmano? Lo avete già visto, completate le missioni avanguardia o crogiolo, li trovate più spesso come drop negli engrammi blu, spesso vi vengono date le strane monete quando fate una partita in crogiolo o in playlist assalto, insomma, piovono monete. Anche nel caso sfortunato del Cala la Notte che vi droppa strane monete a raffica. Notiamo anche la presenza di un engramma esotico per le armi. Sì, però fermi. Questo si chiama engramma storico. In pratica contiene un'arma esotica casuale, pesante ovviamente, dell'anno 1 di Destiny, con i valori di attacco dell'anno 1. Quindi, se vogliamo il Galarorn al costo di 31 monete, ci giochiamo la possibilità di trovarlo qui dentro, ma sarà sempre massimo 170, non più di quello. Potremo trovarci prossimamente anche armi primarie o speciali, ma saranno sempre anno 1 storiche. Ciò che sicuramente non potremo trovare sarà il necrochiasmo o il mitoclasta. Bungie non ha specificato se potremmo trovarci dentro anche Aculio, Vituperio o, che ne so, la promessa del reietto e così via. Non lo ha specificato, quindi non ve lo so dire. In questo caso sono io che chiedo a voi. E nel caso voi acquistiate uno di questi engrammi, magari potete anche dirmi se avete trovato qualcosa tipo Aculio, eccetera. Mi soffermo invece su un oggetto che a mio parere diventerà molto, molto importante, ovvero il 3 di Ori. Il Tree of Coins, ve ne parlai già a tempo addietro, vi ricordate? Essenzialmente è un oggetto che con solo 7 strane monete vi permette di aumentare le possibilità di droppare un esotico da uno dei boss. Per boss intendiamo qualsiasi nemico che abbia un teschio sulla sua barra gialla. In pratica, consumate un Triss e questo Triss vi dà un buff che finisce non appena uccidete il prossimo boss. Se non ottenete nulla, usando un altro Triss al boss successivo, le vostre possibilità di droppare un engramma esotico aumenteranno. In pratica, scala. Quindi, ripetiamo, un Triss equivale ad una possibilità sul drop del boss. Se non droppate niente, dovete usare un altro Triss, ma già al secondo avrete più possibilità di droppare un engramma esotico e così via sempre di più. Bene, in base a questo, adesso, prima di passare a presentarvi gli oggetti in vendita d'Azur, partiamo dal presupposto 290 di livello luce, orientativamente richiesto per il nuovo ride di stasera. Questi esotici partono da un minimo di 280 difesa. Ciò che vende stasettimana è misto, cioè ci sono equipaggiamenti così così e altri non male. Ma non dovete guardare troppo questa cosa. Dovete fare in modo, se volete partecipare al ride senza essere presi a schiaffi in faccia, di alzare il vostro livello luce. Come? Ripeto, marchi leggendari utili per cercare di comprarsi quei leggendari dai venditori di fazione che vi portino ad avere 280 di luce minimo. E se proprio devo dirla tutta, io investirei sullo spettro dell'avanguardia che vi dà 280 di luce per il semplice fatto che droppare uno spettro è molto più complicato che droppare altro equipaggiamento. L'esotico serve per farvi tappare il buco di un pezzo che magari è troppo di basso livello. Vi serve per aumentare il livello luce e cominciare a droppare sempre meglio, perché si innesca un meccanismo a catena che vi porta a beccarvi in grammi blu con oggetti blu sempre migliori più aumentate il vostro livello luce. Ma avrete bisogno di qualcosa che inneschi il vostro salto e l'esotico o il leggendario comprato con i marchi è quel pezzo che vi fa fare il salto di qualità. Detto questo, passiamo all'analisi dei vari pezzi. Un elmo indistruttibile, elmo per titano assaltatore che vi fornisce un ulteriore corpo a corpo, un ulteriore colpo, corpo a corpo, e le uccisioni fatte con pugno della tempesta vi attivano immediatamente la rigenerazione della salute. Questo è un perk intrinseco, cioè il perk intrinseco è quel perk che avete già sbloccato non appena droppate o acquistate quell'esotico, quindi non va potenziato. Vi può far aumentare disciplina o intelletto, vi fornisce super energia bonus dall'uccisione dei mostri dell'oscurità, quindi non guardiani, ammazzandoli con i colpi corpo a corpo o, nel caso, con le armi pesanti, ed infine vi fornisce energia bonus quando si raccoglie le sfere di luce. Chiaramente quando vedete i perk in colonna, come in questo caso, significa che o potete scegliere il perk di sopra o quello di sotto. Non è un elmo valvagio, alla fin fine avete una doppia possibilità di curarvi istantaneamente prendendo a schiaffi un nemico di basso livello, in PvP e non in PvP, badate. Spina del giovane Ankara, guanti per cacciatore pistolero che vi aumentano la durata delle granate laser e ve ne dà anche una seconda di granata laser. Vi può far aumentare disciplina o intelletto, poi velocità di ricarica aumentata con cannoni portatili o fucili di precisione, aumenta la distanza di lancio delle granate o le granate forniscono energia bonus al corpo a corpo, anche qui c'è di meglio, ma tenete sempre conto del discorso di prima fatto sul livello luce, amici miei, quindi comprate se ne avete bisogno. Qui abbiamo un oggetto completamente nuovo, macchine dell'impossibile, guanti per stregoni e evoca tempeste che come perk intrinseco vi fornisce a prodo, ovvero attivando la super si sprigiona in automatico un lampo sul terreno creando una devastante onda ad urto sotto i piedi. Questo vi lascia spazio da usare per un altro perk della super se volete, vi aumenta disciplina o forza, aumenta la velocità degli attacchi corpo a corpo oppure i colpi corpo a corpo forniscono energia bonus dalle granate oppure aumenta la velocità di ricarica dei fucili ad impulsi o dei fucili a fusione. Ok, io non li ho provati, onestamente mi attira il fatto di poter far male solo attivando la mia super così, aggiungendo letalità nello stretto e allo stesso tempo permettendomi magari di piazzare quel punto perk da un'altra parte rendendomi ancora più letale. Effetti sconosciuti mi attira, io lo prenderei ma è una scelta personale. Fiera dell'inutilità con bobine e propulsori che aumentano il grado del vostro astorerado in leggendario, aumentano la velocità e resistenza modificando il colore della scia, ma cavolo, voi li spendereste veramente 23 strane monete per ste cose specialmente adesso? No, io non credo. Sintesi pesanti al solito prezzo di una strana moneta e poi una particella di luce per due strane monete. Le particelle di luce ora servono per infondere le armi ma anche per avere un po' di esperienza così, tipo consumabile, cioè voi lo applicate e vi beccate esperienza istantaneamente. Ok, ora passiamo velocemente al momento dei saluti. Saluto Monkey D. Bunny, Goofy Mushroom, Sky Zampa, Albi 992, Just All e Legend Kill 27. Saluto poi i clan Exo Team, Leoni Italiani, Guardians of Buddha, Nonaleggio, Lupi Guardiani, Sinfonia Divina, Spettri Balordi, L'Ultimo dei Sensi, Custodi del Branco e Illuminati del Sole. Saluto poi infine Ironite86 e il clan degli Angeli dell'Apocalisse. Bene, a posto così ragazzi, ora aspetto i vostri commenti come al solito. Io purtroppo ultimamente non riesco a rispondere a tutti i commenti per estrema mancanza di tempo, non sono mai stato così impegnato come in questi giorni. Detto questo, grazie per essere stati in mia compagnia. Voi cosa comprerete da Azur, a parte il tris di Ori? Alien vi saluta, love and peace!